Si avvia le sue battute finali la sessantesima edizione del Salone Nautico di Genova che chiuderà i battenti nella giornata di domani. Un salone che quest'anno ha dovuto fare i conti non solo con le misure anti-Covid ma anche con il maltempo che ha flagellato diverse zone della Liguria nonostante siano state le barche, ancora una volta, a far parlare di sé, con le loro innovazioni tecnologiche e con un sapore tutto nuovo, soprattutto legato ad un modello di vita che segue i tempi che sfida il mare nel pieno rispetto di quel senso di libertà che specie in questo periodo si fa quanto mai più prepotente in ognuno di noi. Sold out i biglietti nella giornata di ieri a suggellare un successo non solo per quanto riguarda le imbarcazioni ma anche l'organizzazione di questa sessantesima edizione. È stato un grande sforzo, veramente però ci ha premiato. Oggi con l'apertura del sessantesimo abbiamo acquisito il primo posto europeo, ora siamo il salone più bello in Europa, più grande anche e abbiamo dimostrato perché sappiamo fare le cose fatte bene. Quindi il 2022 avremo il salone più bello al mondo. Devolvere il ricavato di tutte le iscrizioni e ci sarà probabilmente un qualcosa in più al reparto al dipartimento di emato-oncologia dell'ospedale Gaslini diretto dal prof Carlo Dufour che insomma dire quanto fa è forse superfluo. Insieme in mare ma insieme anche a fare un qualcosa di bello con i partner di questa manifestazione che ripeto col cuore la stiamo facendo lo stesso.